Non si è fatta attendere la risposta del sindaco di Pescara Carlo Masci dopo l'annuncio dei consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di scendere in piazza con cittadini residenti per chiedere una modifica al progetto del nuovo ferro di cavallo che sorgerà nelle quartiere Rancitelli. Ma i 5 Stelle quali? Quelli di Conte o quelli di Di Maio? Perché il punto è anche questo. Ma noi li conosciamo i 5 Stelle, sono quelli che dicono sempre di no, che vogliono impedire di fare qualsiasi cosa. Loro non potevano neanche immaginare minimamente che ci sarebbe stata un'amministrazione che avrebbe tranquillamente puntato all'abbattimento del ferro di cavallo, una impresa definita impossibile da tutti, tant'è che nessuno aveva mai pensato un'operazione del genere. Noi invece come le formichine abbiamo fatto un passo alla volta e oramai siamo quasi al punto di arrivo, noi abbatteremo il ferro di cavallo. La garanzia per i cittadini che noi faremo le cose che si devono fare è data dal fatto che quando abbiamo detto una cosa l'abbiamo fatto e che per 50 anni i cittadini hanno vissuto con il ferro di cavallo lì la cosa più degradata che ci fosse a Pescara e che era un simbolo del degrado assoluto non soltanto a Pescara. Era un cancro che bisognava estirpare e noi lo stiamo facendo. Il primo cittadino poi detto che troverà posto nei nuovi alloggi solo chi ne ha diritto ed è in possesso dei requisiti di legge. Fino a prima che arrivassimo noi le case venivano consegnate anche ai delinquenti, si permetteva l'occupazione abusiva anche dei delinquenti e noi i delinquenti li abbiamo cacciati. Questo è il tema e non daremo sicuramente case ai delinquenti ma daremo case eventualmente che si ricostruiranno dovunque si ricostruiranno a persone serie. Ci sono le famiglie disagiate che ne hanno bisogno, ci sono i giovani che si sposano e che non hanno casa e che hanno bisogno di casa, ci sono i padri separati, le madri che hanno figli e che non hanno la possibilità di avere un alloggio. A queste persone noi dobbiamo pensarci.